Un'esibizione che rompe le barriere tra le arti, fondendole in un'unica suggestiva performance, inaugura PAC, il primo centro di arti performative del Centro Italia, che è aperto all'Aquila il 21 settembre, una tre giorni esplosiva di eventi, manifestazioni artistiche e tantissimi corsi aperti gratuitamente a chiunque voglia provare e scoprire tutte le discipline. La sede del PAC è in via Eulis e Nuzia. Desideravamo che la città e il territorio avessero finalmente un luogo e un conteritore multidisciplinare in cui esprimere se stessi e incanalare in maniera costruttiva le energie. Hanno spiegato Eleonora Pacini e Alice Cimoroni, ballerine professioniste aquilane. Tutti possono, attraverso metodi tradizionali e innovativi, ma soprattutto attraverso la ricerca e la pratica del benessere, trovare armonia, sviluppare consapevolezza e migliorarsi. PAC è una risorsa e un'opportunità per ciascuno di noi, hanno detto singolarmente, famiglia, grandi e piccini. C'è anche una pagina Facebook ufficiale per seguire tutte le attività. PAC Center L'Aquila